che andrà direttamente alle olimpiadi cioè che andrà direttamente a pechino e quindi penso che sia una bella cosa anche questa io dovrò dire una frase fra l'altro in cinese che wang yin tangshu wang yin tangshu italy je mei chiediamo ovviamente è una frase che intanto la lascio lascio ai alla comunità cinese ma la frase di benvenuto insomma quindi noi faremo questo video e ci piace far vedere la bellezza e la maestosità di venezia che comunque un elemento di comunicazione unico